Se fossi il Cornelian, madre dei Gracchi, direi ecco i miei gioielli, quindi veramente non ho parole per ringraziarvi. Grazie di essere qui, grazie per tutto quello che fate, per come farete diventare grande ancora di più questo Veneto e io auguro a tutti voi ovviamente di essere presenti nel 2026. L'augurio del presidente Zaia nel salutare gli atleti olimpici e paradimpici veneti di rientro da Pechino e quello di rivederli ai giochi di Milano-Cortina. Abbiamo voluto celebrare i risultati, le medaglie e la loro determinazione hanno dimostrato forza di volontà, spirito sportivo e voglia di vincere. Sicuramente sapranno distinguersi anche nel 2026, ha detto Zaia. Il primo ad essere premiato dal governatore è René De Silvestro di San Vito di Cadore, medaglia d'argento nello slalom gigante, categoria sitting, e di bronzo nello slalom speciale, categoria sitting. Speriamo di ottenere qualcosa in più tra quattro anni. Non muoviamo l'oro, piccato. Esatto, esatto. Tocca poi a Filippo Ambrosini per il pattinaggio, Anna Comarella, sci di fondo, Lucia Dalmasso, snowboard, Lucrezia Fantelli, freestyle, Mattia Gaspari, skeleton, Davide Ghiotto, medaglia di bronzo nei 10.000, skating, e Tommaso Leone, snowboard. Applausi che continuano quando è il turnio di Stefania Costantini al suo primo oro olimpico nella sua prima Olimpiadi nel curling, in coppia con Amos Mosaner. Lei, di Cortina, attende con impazienza le Olimpiadi del 2026 quando, proprio nella sua città, si disputeranno le gare di curling. Credo che un'Olimpiadi già sia un evento raro per poter partecipare, in più farla a casa un evento unico. Quindi sicuramente il mio sogno e l'obiettivo è quello di lavorare duramente questi altri quattro anni e rappresentare l'Italia a casa sarà il mio prossimo obiettivo, sì.